Nel territorio c'è il problema da alcuni mesi dell'Ivv, qual è la vostra posizione e che cosa sta facendo la Lega? Noi ci siamo mossi sia a livello governativo, cercando di spingere affinché vi sia il sostegno delle istituzioni nazionali e abbiamo coerentemente votato a favore della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle appunto per quanto riguarda l'Ivv. Abbiamo da tempo seguito le crisi del Valdarno, occorre mettere l'attenzione sul nostro Valdarno, Valdarno Arettino e Fiorentino, il Valdarno è una realtà omogenea perché fino a pochi anni fa era una importante realtà vivace e produttiva, oggi purtroppo risente di un'economia che si sta trasformando e per questo occorre che vi sia la massima attenzione. Si va dalla Beckert alla Cotopradi di Olmi alla Ivv, troppi sono i casi, l'abbiamo seguiti concretamente e continueremo a farlo perché appunto il Valdarno possa avere lo sviluppo che merita. Avevamo presentato a ottobre insieme al Consigliere Comunale Tommaso Pierazzi un impegno da parte della Regione per l'industria vetraria valdarnese che è un pezzo di eccellenza toscana che rischiava di lasciarci a seguito di una crisi aziendale, una delle molte che coinvolge la Toscana. Il territorio era già stato colpito duramente dal problema di Beckert che potrà avere un epilogo favorevole e per ora ha trovato una prima parziale soluzione grazie al Ministro Luigi Di Maio ed è stato colpito quel territorio anche dal problema della Cotto Pratigliolmi. Sono un altro pezzo di Toscana e del territorio che rischiava di andarsene. Abbiamo convinto la Regione Toscana a continuare nell'impegno per la risoluzione di questa crisi soprattutto per tutelare i livelli occupazionali, quindi dei dipendenti, la loro capacità, la loro artigianalità, la loro eccellenza e un pezzo di know-how e di eccellenza toscana che rischiava di andare perso. Siamo disposti anche a coinvolgere, se sarà necessario, il Mise per questa tutela, non solo per questa azienda ma per tutte quelle che sono una parte essenziale del nostro essere toscani.